Io voglio fare un po' di santo. Io posso tenerlo perché sono... Oh, Dio. Oh, Dio. Pagovani, sono tutti così, tutti perfetti. Pagovani di Sacco, ragazzi di liceo, che amano santo il Papa, della chiesa. Poi in Argentina si veniva tanto Sant'Antonio, è il patrono delle ragazze che chiedono fidanzato. Quando hanno vent'anni chiedono a Sant'Antonio che venga, che abbia, che tenga e che convenga. Dopo a trent'anni, se non è arrivato, tornano a Sant'Antonio che venga e che tenga. E a quaranta Sant'Antonio che venga. Grazie. 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 Grazie per me, eh.